CERTA GENTE CERTA GENTE, SORO AL DUTT SE L'AI DETA, L'AI DESCHEN SCRINA VERT. VITES, CHE BESTA L'ESVARDER DEL MUS, O LESSO SERVERE UN MOMENT, PER ENTENER CELQUE L'ESATE DO. LIDIA SCHMALZ, DA SENT TULRICH, NASHU DAI 14 D'AURST DEL 1924 E DECESA A CHANA CEI DA PASSA 70, CONNESSER UNA DECELES CHE SENNA L'URA SU SCHENES, E DUTKEL KELABU SE L'HA FAT SU UNSEMA ASSIE OM, ANGELO LUIGI FOSCO. L'ESTAT SU UNSELA, KANKE IL LUREA, UNSEMA, EL COGO E ELLA SERVIR, CHE LIDIA HAD DECEDU DE LASCER GARDENA PER FASSA, E DE GRAZIA CHE L'HA SAEA TODESC FRANC, VELC CHE AMOLA SETTENTEL CER. OSUM, PASSA, E DECESA, ZU CLE SHMUNDO, DEN DI LUSTIGEN BURIBEN HOBEN WIDER KĘ GĐŁ 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 GĐŁŠ Ma la vita, Lidia e Luigi se l'ha fatta su tutta canta a Sapecol, o la che cresci i fies, Paolo, Pietro e Angelo, o la che ieri ha cominciato a girare con le vaches, le sies, quelli di Berbafance e quelli di Nini de Cicciol. Col tempo le vaches ha lasciato il posto al turismo e la chiesa moderna è diventata ottie e ristoranti, dante la bella vista e poi dante il gran bar, sempre con fer gentile e indrezza, prezzi alla Todesca. Era bello, se l'era di mo con Todesca piccoli, ecco tanto bello che si saia a guardare su questa montagna che si vedeva, il Molinion, Grossleiten e il Rosengarten. Mi saia già a memoria da dire tutto. Però hanno anche i nostri clienti italiani che tornavano ogni anno. Le mort l'han passata una che l'hai venuta tanti anni a Pecol, la prima auta che l'hai venuta. Su e l'ha mandata la cambra e l'hai venuta sul numero 9. Questa l'hai morta due anni fa. e l'hai venuta la cambra con la maneccia bianca, l'hai venuta sull'armadio e l'hai venuta sull'armadio. Gli attaccati e in cinquanta, che anche Sapecol l'era de mol schilift de Tita de Bertol. E la sanfora la Tita Piaz, tutta quella che le Sapecol anche condì, l'ho affattice e gli ha fatto i soldi. Ma in ciasse le ruo ha i soldi. Per Lidia non le sparì l'amor humol per l'urriere. e appuntina per rispetto in verso che l'amor l'entrata che l'ha deceduta in osier più sapecoli. Non è una massa, non cresce massa se vaga su. Si su avva e non vaga. Perché mi fai massa? Ricordare il passato, che l'hai sempre stato bello. E sono sempre stata contenta. E anche soddisfatta con il mio amore. Sono sempre d'accordo, grazie a Dio. C'è che l'è sempre da dire. C'è che l'è sempre magari da dire. Ma però la conclusione è andata bene. Piovesina ai cent che ai 95, Lidia, alla vita non la domana più troppo. Mingo la fa smena di non sentire che anche non interessa. e per il resto non c'è niente. Che di ceffla è buona e di giama è niente. Dopo farà il Signore Dio, la dice. Ma in Dena la va inante. E in Dena l'è una delle peces che resta, che l'hai crescita, di dare a crescere la Val di Fassa e che l'ha l'opera ora con terra aus. Ho fatto un bel piano e dopo parto mingo le barre. Ho fatto la cambra e ingrandì mingo la lotta. E adesso la massa grande. Però... Gira ben avanti. Speriamo che abbia fondamenti. Ciao.